Una notte bianca spaziale nel vero senso della parola, quella proposta a Soma Lombardo Sabato dopo due anni di fermo a causa della pandemia. Un evento tutto ispirato agli anni 60, con negozi aperti fino a tardi, esibizioni e performance in diversi punti della città, street food, esposizione di auto e moto storiche e tanta musica rigorosamente dell'epoca. Tutti, grandi e piccoli, hanno sfoggiato outfit anni 60 bellissimi e colorati. Il più originale? Sicuramente quello del sindaco Stefano Bellaria che ha scelto un look davvero spaziale. Diciamo che essendo nato nel 1969 avevo due scelte, o Woodstock o l'uomo sulla luna. Essendo vicino a Volandia ho scelto l'uomo sulla luna, anzi ringrazio Volandia che ci ha prestato la tuta che è la riprodizione fedele di quella che Armstrong usò nell'allunaggio, quindi direi una festa spaziale. C'è proprio bisogno di tornare a stare insieme, a vivere, a divertirsi con cautela ma con allegria. Quindi davvero invito tutti a tornare anche ai prossimi eventi che ci saranno a Somma Lombardo. Peace, love e a questo punto anche space. Sarà una serata veramente di gioia, con tanto peace and love, con tanto amore e voglia di stare assieme. Un imperdibile concerto, quello in programma al Castello Visconti di San Vito il prossimo 15 luglio. Il concerto sarà il 15 luglio alle ore 21 nel cortile d'onore del Castello. Questa manifestazione, questo evento è stato voluto soprattutto dal presidente della banda di Somma alla cittadina, Cavalier Mario Gianello, per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Don Gavrio Visconti di San Vito. La fondazione apprezza moltissimo questa sensibilità, anche perché lo consideriamo un pensiero che si aggiunge sempre in memoria del Marchese Don Gavrio dopo la pubblicazione di due bei volumi, sempre a lui dedicati. Uno che parla della quadreria Site in Castello, l'altro dei cavalli, la sua grande passione per l'Ippica. È un concerto aperto a tutti, anzi la fondazione e la banda invita innanzitutto la cittadinanza sommese. La presenza copiosa dei nostri concittadini rivela l'affetto verso questa grande famiglia che ha abitato per più di 800 anni a Somma, la famiglia Visconti, e che ha voluto lasciare alla nostra città un ricordo importante nell'architettura del castello. Proseguono gli eventi estivi a Somma Lombardo, pensati per coinvolgere adulti e bambini. Settimana prossima avremo alcuni eventi più dedicati ai bambini e alle famiglie. Partiamo con mercoledì 20 luglio, ore 21, presso il Castello Visconti di San Vito, con un concerto di un quartetto d'archi, un quartetto amouage, i quali ci presenteranno una serata tema Disney, quindi le colonne sonore è sicuramente quelle più belle, quelle che appartengono alla nostra infanzia, ma anche ancora oggi all'infanzia dei bimbi di oggi. E quindi passeremo dal Leone alla Sirenetta, ad Aladin, a Frozen, quindi sarà una serata davvero molto bella all'insegna della bella musica. Poi proseguiamo sempre con gli eventi, e quindi abbiamo giovedì 21 luglio, questa volta ci spostiamo a Maddalena, al campo sportivo dell'Oratorio, perché ci sarà la tappa del Cinema Sotto le Stelle, ore 21 e 15, con un film intitolato Si mi vuoi bene, con Claudio Bisio, quindi una commedia che ci farà sicuramente tanto ridere. E per terminare la settimana, domenica 24 luglio, ore 21, presso il cortile del Palazzo Comunale, ci sarà l'associazione teatrale Opla, che ci porterà il suo spettacolo, il Circo in Cielo, uno spettacolo soprattutto destinato ai bimbi tra i 6 e gli 11 anni, chiaramente accompagnati dalle loro famiglie, ma in realtà è uno spettacolo che può aprire le menti anche di tanti adulti. E quindi vi aspettiamo numerosi, ricordatevi sempre di prenotare gli eventi andando sul sito del Comune, sulla pagina degli eventi estate insieme, trovate il link per prenotare il vostro posto. Buona estate! In occasione del suo dodicesimo anniversario, la bottega del Falegname di Quarezza apre le sue porte. L'evento, organizzato dall'Associazione Antichi Mestieri, è in programma per il 17 luglio dalle 10 alle 18. L'ingresso è libero. Per prenotare, chiamare il numero 349-241-0655 o scrivere un'e-mail all'indirizzo riccardobonetti-virgilio.it Grazie! Grazie! Grazie!